Nella prima lezione abbiamo lasciato Schliemann a San Pietroburgo mentre si apprestava a partire in direzione della Grecia e del mondo egeo alla scoperta dei mondi scomparsi dell'epopea America e partiva con l'intento ben preciso di aprire una nuova pagina nella storia dell'archeologia per poter in definitiva inserirsi nella buona società di San Pietroburgo. Seguendo alla traccia Schliemann uno si rende conto che in definitiva non si catapulta immediatamente nella troade ma nel suo viaggio si ferma prima di andare alla scoperta di Troia e dei tesori che nasconde la città di Troia si ferma nell'Oionio e si ferma a Itaca. Siamo nel 1868 nel mese di luglio. Perché Itaca? Ma la risposta è ovvia. Perché Itaca è l'isola dove regnava Ulisse uno dei capi greci che hanno condotto insieme a Gamennone e Achille la guerra contro Troia e si sono impadroniti della città di Priamo. Tra parentesi è Ulisse il vero responsabile della caduta di Troia perché è lui che lasciando sulla spiaggia di Troia un cavallo nelle cui viscere tra virgolette si nascondevano i guerrieri greci è lui che lasciando sulla spiaggia di Troia questo cavallo e facendo finta di aver abbandonato l'assedio ha spinto i troiani a introdurre nella cittadella questa statua che nascondeva nei suoi fianchi coloro che in definitiva hanno aperto le porte di Troia ai greci e permesso dopo dieci anni di assedio all'esercito greco di distruggere la città di Priamo. Siamo Itaca. Schliemann spera di ritrovare il palazzo di Ulisse. Inizia uno scavo con esiti, secondo lui, brillanti oggi li possiamo definire disastrosi non ha trovato nulla di interessante nulla di interessante ed è probabilmente con una grande disillusione nel cuore che lui abbandona Itaca e decide di partire per la Troade. arriva a Troia, arriva in Turchia, nel agosto del 1868. Come si presentavano i racconti sull'antica Troia in quel periodo? In quel periodo molti, dopo tanti altri, ritenevano che la città di Troia, l'antica città di Troia, si trovasse sulla collina di Bunarbashi, una collina non molto distante dai Dardanelli. Schliemann si fa portare a Bunarbashi da un individuo del luogo e dice nella sua autobiografia sempre che dopo un'ora di cammino faticoso arrivai sul lato sud-occidentale della collina laddove si crede di aver rintracciato Pergamo Pergamo, cioè l'antica Troia in un ripido pendio di circa 150 metri. Secondo lui, Achille e Ettore avevano combattuto lì. I due eroi, dice, erano sicuramente scesi di là per arrivare allo Scamandro e fare il giro della città. Scesi nel precipizio aveva una pendenza di 45, poi di 65 gradi e fui costretto a calarmi all'indietro a quattro zampe ci misi un quarto d'ora per arrivare in fondo e mi convinsi che nessun mortale neanche una crapra avrebbe potuto percorrere di corsa una scarpata con una pendenza di 65 gradi perché, secondo il racconto omerico Achille e Ettore, combattendo avevano percorso di corsa il perimetro intorno alle mura di Troia. E Omero, prosegue Schliemann così preciso nella determinazione delle località non ha minimamente pensato che Ettore e Achille nella loro corsa intorno alla città dovessero correre ben tre volte lungo questa scarpata. Quindi, nella sua autobiografia gli dice assolutamente non è Bunarbaci il posto dove si trovava l'antica città di Troia. Bisogna cercare altrove. E per la verità e qui ritroviamo la furberia a volte un po' ingenua di Schliemann perché in realtà è altrove che tanti altri e in particolare qualcuno che allora già scavava l'antica Troia che tanti altri e questo qualcuno avevano individuato la vera Troia Omerica. Ma parliamo un attimo degli scrittori antichi. Contrariamente a quello che ci dice Schliemann lui non è stato come vi dicevo il primo a considerare che la collina di Isarlick corrisponde in sé alla sede della Troia Omerica. Gli scrittori antichi ritenevano che Troia si trovasse veramente laddove sorgeva la collina di Isarlick. Secondo Erodoto re di Persia il re di Persia Cersei aveva soggiornato lì durante la sua marcia attraverso l'Asia minore per tentare di varcare i Dardanelli e andare a sottomettere la Grecia. Erodoto ci racconta che Cersei era salito sull'antica cittadella si era fatto raccontare la storia dell'assedio e commosso il re dei re sacrificò mille pecore ad Atena Troiana e ordinò ai sacerdoti di versare il vino sulle mura di Troia in onore delle grandi anime del passato. Siamo nel 480 avanti Cristo Cersei sta per lanciare la sua grande spedizione che porterà il suo esercito in Grecia e la sua flotta a Salamina ed è nel 480 che la sua flotta verrà distrutta dalla flotta Atenese e il suo esercito sconfitto a Platea quindi sarà il trionfo della Grecia nelle guerre persiane però prima di varcare i Dardanelli Cersei ha sacrificato gli dei a Troia. La città cantata da Omero ha esercito sempre un immenso facino sui grandi capitani dell'Occidente dopo orsesse quando Alessandro il Grande ha attraversato l'Elesponto per portare la guerra in Asia si è fermato a Troia e raccontano gli storici corse nudo e unto d'olio intorno a quella che era considerata la tomba di Achille indossando le armi che erano depositate nel tempio di Atena. Cesare invece altro grande mitico condottiero dell'antichità inseguendo Pompeo attraverso le rovine della città bruciata 40 anni prima da una spedizione romana. Cosa vide Cesare? Trovò fitte querce che crescevano in mezzo a quelli che erano stati gli orgogliosi palazzi e le dimore degli dèi e mentre attraversava un corso d'acqua qualcuno esclamò ecco il famoso Xanto Cesare allora si fermò e qualcun altro gridò qui portarono il corpo di Ettore attento a non molestare la sua ombra e giunto a un tubulo di pietre Cesare venne apostrofato da qualcuno che gli disse vedi o Cesare l'altare di Giove tonante e Cesare pur non ritrovando tra le rovine e i cespugli lo splendore delle costruzioni di una volta capi di camminare su una terra sacra e perciò eresse un altare di terra coperta di zolle bruciandovi sopra l'incenso e pregando gli dei immortali che costituivano queste fatali reliquie di accordarli protezione in cambio bello questo in cambio giuro di ricostruire le mura distrutte e di ridare vita ai templi che furono e altri condottieri sono passati per Troia e altri condottieri si sono fermati commossi nel ricordo di Ettore di Achille di Priamo della bella Elena soprattutto per me il personaggio più affascinante di tutta l'epopea America e Troia veramente nel sito di Isarlick aveva conservato assolutamente tutto il suo fascino ma torniamo al 1868 quando arriva Schliemann a Isarlick cosa vede? beh lui vede prima di tutto che qualcuno ci sta scavando come qualcuno sta scavando Isarlick sì qualcuno sta scavando Isarlick è un americano si chiama Frank Calvert è console degli Stati Uniti ai Dardanelli e Frank Calvert ha seguito una tesi di uno scozzese chiamato McLaren presentata nel 1822 quindi ben prima del 1868 secondo la quale quello che aveva detto lo che aveva detto lo che aveva detto e altri autori a partire dalla fine del settecento che volevano collocare Troia a Bunarbashi questo non era vero Troia si trovava effettivamente laddove gli antichi ritenevano si trovasse Troia cioè sulla collina di Isarlick allora Calvert convinto da questa tesi di McLaren decide di intraprendere degli scavi a Troia siamo nel 1863 quindi cinque anni prima dell'arrivo nella Troade di Schliemann e cosa dice e cosa fa Calvert compra metà della collina di Isarlick e tenta di coinvolgere il British Museum in una campagna di scavo solo che questo Calvert non era ricco e ha bisogno di fondi per andare avanti e le sue richieste al British Museum per la verità non erano eccessive pensate un po' che sollecitava una somma di 100 sterline per iniziare scavi e ricerche sistematici a Isarlick il direttore del British Museum che si chiamava Charles Newton ha appoggiato la sua richiesta ma le autorità britanniche hanno negato la proposta di assecondare hanno rifiutato di assecondare la proposta di collaborazione di Calvert povero Calvert era convinto di dover e di poter scavare Troia e quindi con i suoi poveri mezzi decide di iniziare a aprire una serie di trincee sulla collina di Isarlick trovando tra l'altro delle cose molto importanti e si trovava lì quando sto fatidico 10 agosto del 1868 arriva Schliemann arriva Schliemann e è interessante leggere quello che Schliemann scrive si fa condurre sul posto da un arabo vede un modesto villaggio a un chilometro della collina e vede cito Schliemann su una collina di almeno 100 piedi di altezza in gran parte coperto di terra argillosa un tempio o un palazzo con pietre ciclopiche di ottima fattura da lì avevo una vista meravigliosa sulla piana di Troia lì vicino verano resti di molte colonne Schliemann il 15 agosto torna ai Dardanelli e incontra Calvert Calvert capisce immediatamente che questo singolare personaggio questo dilettante è pieno di entusiasmo ma capisce soprattutto che possiede i mezzi finanziari per poter proseguire lo scavo su tutta la collina allora Calvert spiega a Schliemann le sue teorie sul sito dell'antica Troia dicendo sì non è Bunarbachi è sicuramente Isarlick Calvert che aveva una buona conoscenza degli autori antichi gli dice guardi poi tra l'altro tutti nel passato fino a questo infelice lo chevalier tutti erano contentissimi nel proclamare che l'antica Troia America si trovava proprio al posto della collina di Isarlick e Calvert gli mostra anche la bella collezione di antichità che è riuscito a mettere insieme durante le sue spedizioni e i suoi viaggi nella Troade e in particolare gli fa vedere quello che è venuto alla luce durante le campagne di scavo condotte a Isarlick quindi a Troia tra il 1863 e il 1868 ci sono resti importanti vasi soprattutto ma non solo che risalgono un periodo compreso grosso modo tra il VI e il VII secolo a.C. quindi grossomodo periodo della Grecia arcaica e ci sono soprattutto delle sculture che appartenevano al tempio ellenistico perché come vedremo più avanti Troia è un sito che affonda le radici in un lontano passato e che è stato occupato senza soluzione di continuità per praticamente tre millenni schliemann vede queste cose sente questi racconti è impressionato e dice che scaverà insieme a Calvert nella primavera successiva cioè nel 1869 in data 16 agosto ripeto si sono conosciuti ai Dardanelli il 15 agosto in data 16 agosto scrive nel suo diario ho fatto ieri la conoscenza di Frank Calvert il famoso archeologo che condivide la mia opinione che la Troia America non può trovarsi che ha Asserlich divertente non dice Iserlich dice Asserlich non ha non ha capito bene la parola e quindi vedete lui già furbo e spregiudicato tenta di impadronirsi della scoperta di Calvert prosegue Schliemann parlando di Calvert mi ha incoraggiato fortemente a scavare lì dice che la collina è tutta della mano dell'uomo mi ha fatto vedere la sua grande collezione di vasi e altre antichità che provengono dai suoi scavi e in una lettera di qualche giorno posteriore del 22 o del 23 24 agosto scrive al padre e alla solle la doris nel prossimo mese di aprile quindi aprile 1869 intendo denudare l'intera collina perché sono sicuro di trovare l'ipergamo la cittadella di Troia ecco ormai Calvert si è messo nelle mani di Schliemann e Schliemann lo sta per stringere in un abbraccio mortale rubandoli ovviamente l'onore della scoperta di Troia Schliemann ritorna in Europa va a Parigi dove possiede pure degli affari inizia a scrivere il suo primo lavoro archeologico che è intitolato Itac le Peloponese Troie cioè Itaca il Peloponese e Troia e nelle pagine del volume questo è fantastico nelle pagine del volume che uscirà in data 26 dicembre 1868 si presenta come il vero primo e unico protagonista della scoperta di Isarlick ormai è nata la leggenda e Schliemann ad aver scoperto Troia in realtà vedete che le cose sono alquanto diverse tra parentesi lui è molto attento Schliemann a far conoscere al mondo questa sua scoperta scrive a tutti che ha scoperto la Troia America lo scrive a Renan che è il segretario dell'Académie des Inscripciones e Belletres il grande Renan e la prestigiosa Accadémie des Inscripciones e Belletres e quindi ormai Calvert sta per scomparire e scomparirà effettivamente l'unico protagonista che rimane sulla scena del grande teatro troiano è Schliemann e cosa farà Schliemann Schliemann scava scava e scopre scopre delle cose straordinarie e vi parlerò in particolare del tesoro sarebbe meglio parlare dei tesori venuti alla luce a Troia ma diamo un'occhiata alla carta vedete dove si trova Troia nel contesto del Mediterraneo orientale è una posizione privilegiata lungo le coste nord occidentali dell'Anatolia vicino al passaggio tra Leggeo e il Mar Nero è una via commerciale di una importanza fondamentale perché come vi racconterò più avanti porta tra l'altro alle famose miniere d'oro del Caucaso e vi racconterò un'altra storia mitica che affonda le radici nella storia vera il mito degli Argonauti Giasone con i suoi compagni e con la nave Argo che parte in direzione dell'Elesponto del Mar Nero alla ricerca del vello d'oro vedremo di che cosa si tratta quindi Troia è importante perché controlla il passaggio verso il Mar Nero e quindi controlla l'ingresso nei Dardanelli negli stretti colui che domina la cittadella di Troia certamente occupa una posizione privilegiata che gli consente di gestire il controllo delle navi che vanno dall'Egeo verso il Mar Nero e questa è la fortuna ma anche la sfortuna di Troia fortuna perché ovviamente chi ha Troia in mano diventa ricco sfortuna perché è un posto ambito e quindi numerosi sono i pretendenti all'occupazione di Troia e quindi Troia sarà un numero innumerevole di volte presa d'assalto da chi vuole effettivamente controllare il traffico delle navi che dall'Egeo vanno al Mar Nero e dal Mar Nero all'Egeo questo grosso modo la piana di Troia la collina di Isarlick vedete e questa poi ne riparleremo più avanti è l'Acropoli e la Città Bassa l'Acropoli che è stata costruita per la prima volta all'inizio del terzo millennio avanti Cristo che è stata distrutta un numero innumerevole di volte che è stata occupata senza alcuna soluzione di continuità per presso che tre millenni questa è una ricostruzione assionometrica di Troia vedete in cima all'Acropoli la famosa Troia 2 ovvero la Troia del secondo millennio avanti Cristo del terzo scusate la Troia del terzo millennio avanti Cristo perché è importante perché probabilmente la più ricca delle varie città di Troia molto più ricca di quanto si potesse pensare questa è la rampa che porta alla Troia numero 2 alla Troia del terzo millennio avanti Cristo per cercare di contestualizzare questa Troia del terzo millennio avanti Cristo vi dirò che è praticamente coeva delle grandi piramidi dell'antichismo antico impero che risalgono al venticinquesimo ventiquattresimo secolo avanti Cristo quindi è una città importante inserita nella grande politica internazionale del Mediterraneo orientale in pieno terzo millennio avanti Cristo qui vedete la rampa e i muri della Troia 2 ovvero la Troia del terzo millennio avanti Cristo eccola qua ancora sulla cima della collina qui invece è una Troia posteriore la Troia 6 siamo nel secondo millennio avanti Cristo la città muraria è conservata molto bene tuttavia non facciamoci illusioni questa Troia del secondo millennio avanti Cristo era certamente meno importante di quella del terzo millennio vedete qui di nuovo le mura della Troia 6 e abbiamo anche vi dicevo una città occupata senza alcuna soluzione di continuità per tre millenni abbiamo anche la Troia ellenistico romana ricordate quello che dicevamo prima Cesare Cesare inseguendo Pompeo si è fermato a Troia si è fatto raccontare l'epopea omerica si è commosso di fronte ai resti delle antiche civiltà che erano fiorite su questa collina e addirittura aveva pensato di ricostruire le mura della città e di restituire al loro antico splendore gli splendidi templi che abbellivano questa collina magica qui abbiamo di nuovo un'immagine della Troia ellenistico romana pensate un po' queste mura questi resti sono stati contemplati da Alessandro Magno e da Cesare e fa venire un brivido pensando che il grande re macedone quello che ha portato ai confini del mondo il messaggio civilizzatore dell'ellenismo ha visto queste cose si è fermato qui il discepolo di Aristotele partendo la conquista dell'Oriente seguendo il sogno di una specie di regno universale dominato dal pensiero greco e alimentato dalle lezioni dei filosofi dei pensatori dell'Atene che aveva inventato anche la democrazia pensate immaginare che questo grande conquistatore si sia fermato qui abbia visto quello che sono i resti che vediamo ancora oggi francamente commuove non è vero? e veniamo alla storia l'osca della scoperta del tesoro di Priamo storia l'osca perché è una storia sordida ve la raccontare in due episodi iniziamo con il racconto di Schliemann quello che chiamo la leggenda perché vedrete in questo racconto non c'è assolutamente nulla di vero leggo quello che ha scritto nel grande scavo a nord ovest collegato con una trincea ho acquistato la certezza che la grande muralia portata alla luce nell'aprile del 1870 appartiene a una torre la cui parte inferiore assai aggettante risale forse ai primi tempi della colonia greca mentre quella superiore risale all'isimaco a questa torre appartengono tanto la larga muralia di cui ho parlato vado indietro così vedrete le immagini di quella che poteva forse essere questa torre eccola qua a questa torre appartengono tanto la larga muralia di cui ho parlato quanto un'altra muralia parimenti solida distante 15 metri e in cui ho dovuto aprire una breccia dietro di essa a una profondità di 8-9 metri ho scoperto la cinta delle mura di Troia che parte dalle portesce e scavandovi sotto proprio sotto al palazzo di Priamo ho urtato contro un grosso oggetto di rame di forma curiosa che mi colpì in quanto mi parve di scorgervi sotto dell'oro sopra l'oggetto si trovava uno strato di ceneri rosse e materiale calcinato duro come la pietra su cui poggiava la muralia della fortezza alta 6 metri e spessa 80 centimetri per sottrarre il tesoro e la cupidigia degli operai e conservarlo alla scienza vedete com'è buono occorreva procedere con rapidità e ben che non fosse ora di colazione diedi subito il segnale del paidos termine di origine oscura introdottosi nella lingua turca a indicare il riposo quindi dice paidos riposo insomma smettiamo di lavorare quindi mentre gli operai mangiavano e riposavano estrassi il tesoro con un grande coltello cosa per cui correva un terribile pericolo dato che la grande muralia sotto cui scavavo poteva rovinarmi addosso da un momento all'altro ma la vista di tanti oggetti preziosi ognuno dei quali tanto valore aveva per la scienza mi rese temerario facendomi dimenticare ogni pericolo trasportare il tesoro mi sarebbe stato impossibile senza l'aiuto di mia moglie che mi era vicina sempre pronta ad avvolgere nel suo scialle e a portare via gli oggetti che estraevo tirai fuori per prima cosa un grande scudo di rame simile a un piatto ovale da portata nel cui cerchio era una borchia circondata da una scanalatura lo scudo è lungo mezzo metro liscio e bordato da un orlo la borchia è alta sei metri sei centimetri e con un diametro di circa undici centimetri il secondo oggetto fu un bacile di rame con due manici orizzontali il terzo una piastra di rame alla cui estremità c'erano due ruote fisse come un asse la piastra è molto curva in due punti credo però che queste curvature siano attribuibili al calore del fuoco al cui l'oggetto fu esposto durante l'incendio il quarto oggetto fu un vaso di rame a cui seguirono una coppa rotonda di oro purissimo una coppa d'oro pesante 226 grammi e un'altra coppa aurea a forma di nave con grossi manici alti 9 cm e pesante sei etti ai lati a due aperture forse chi offriva la coppa piena beveva dall'apertura piccola in segno di deferenza per lasciare che l'ospite bevesse dalla più grande rinvenni anche sei oggetti d'argento a forma di grandi lame con una punta rotondata e l'altra tagliata a mezzaluna tutti battuti col martello forse si tratta di talenti omerici che dovevano essere piccoli se Achille ad esempio offre come primo premio della lotta una schiava come secondo un cavallo come terzo un bacile come quarto due talenti d'oro trovai pure tre grandi vasi d'argento e sopra e sotto oggetti d'oro tredici lance di bronzo alla cui punta inferiore c'è un foro in cui ancora è in fisso il chiodo e il bullone con cui la lancia era inchiodata all'asta di legno ciò che differenziava le lance troiane da quelle greche e romane era che in queste l'asta veniva infilata nella lancia in quelle la lancia nell'asta ho rinvenuto tutti questi oggetti insieme l'uno vicino all'altro come in un rettangolo accanto al muro di cinta e penso perciò che probabilmente erano posti in una cassa di legno dall'Iliade si ha la notizia che ne esistevano nel palazzo di Priamo infatti a conferma di ciò ho trovato accanto agli oggetti una grande chiave di cassa delle banche questa chiave doveva terminare con un anello di legno lo dimostra l'estremità del fusto interrotta ad angolo retto come quelle delle lame dei pugnali forse qualche membro della famiglia reale amucchiò frettolosamente il tesoro nella cassa e lo portò via con la chiave infilata nella serratura ma sulle mura fu ucciso o dal nemico o dal fuoco e abbandono la cassa che fu subito ricoperta dalla cenere rossa e dalle pietre del vicino palazzo reale vedete questo è il racconto del ritrovamento adesso analizzeremo nella prossima lezione questo racconto per cercare di restituire la verità storica ma avete trovato una cosa divertente Schliemann associa tranquillamente la datazione di questo tesoro e di questi oggetti alla fine della Troia Omerica ora come sapete la Troia Omerica è stata distrutta quella che chiamiamo la Troia Omerica è stata distrutta verosimilmente alla fine del tredicesimo secolo avanti Cristo l'analisi che faremo di questi reperti di questo tesoro o meglio di questi tesori ci dimostrerà invece che gli oggetti in realtà hanno un'antichità ben maggiore e risalgono molto probabilmente a 1100 se non 1200 anni prima ovvero al terzo millennio avanti Cristo o per contestualizzare questa datazione nel panorama del Mediterraneo orientale all'età delle piramidi di 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 Grazie a tutti.